speciale così va bene non capisci niente vogliamo spiegare che stiamo facendo perché non dobbiamo uscire di casa stiamo giocando a re che stiamo passando il pallone dalla redazione rispettando il metro di distanza dice quasi ma è rimasta dopo l'americano fai lo squisimo sembra che buona massimiliano è andato a cura e caldo ripeti ripeto mi metto davanti ci siamo il regno mi piace molto gli aspetti le parti del sei nazioni però ma si è riazza nazioni non mi ricordo verso tempo comunque sempre meglio il capo no no il terzo tempo del rugby non si supera vogliamo dire che mischia non se ne possono fare no non può fare niente mischia però non ce la dovremmo fare si vogliamo provare una tush e come fai fare la palla tush in alto io faccio non so tu si pesa mi legazzato tu lanciamala dopo quando alzo le braccia vai proviamo proviamo alzami ragazzi dopo questa figura restate tutti a casa come noi ci alleniamo e giocare a la prossima volta verrà meglio a tutti ma che siete falco liberato ferrara giochiamo al rugby e passiamo il tempo tutti a casa